Venerdì 23 luglio si è tenuto l'ultimo talk show delle 6 giornate del Castellabate Film Festival. Gli ospiti che hanno preso parte ad una piacevole chiacchierata sono stati il sindaco del comune di Castellabate, Luisa Maiuri, la produttrice degli Mago Film, Lucia Macale, e i registi internazionali Kids Out, Mr. Emma e Chris Anthony. La tematica trattata è stata a cura del cineturismo e proprio Luisa Maiuri è esordito riguardo questo importante aspetto, parlando proprio del film diretto a Castellabate e Benvenuti al Sud, etichettando il piccolo paese occidentano terra non soltanto di cultura ma anche di cinema. Successivamente la palla è passata a Lucia Macale che ha descritto il film Il diritto alla felicità e la sua ambientazione in uno dei borghi più belli d'Italia, che è Civitella del Tronto, rimarcando l'importanza che può avere il cinema nei confronti del territorio ed anche del turismo. Anche i registi internazionali hanno espresso la loro idea riguardo questa tematica. Partendo da Mr. Emma, nel suo Sixie Maestr Day, la sua intenzione, ha dichiarato, sarebbe cura di girare varie scene in diverse parti del mondo per creare un film e attrarre così quanti più turisti possibile. Kids Out, invece, ha dichiarato di voler raggiungere lo stesso successo di Benvenuti al Sud con l'accostamento social TikTok. Infine Chris Anthony, dopo aver ricordato che il suo documentario è visionato da ben 750 persone al giorno, ha affermato di voler girare un documentario presso le località italiane per promuovere in America. Con queste belle idee si è concluso l'ultimo talk show del Castellabate Film Festival.